Salve a tutti, un breve report della Commissione 5, Commissione dei lavori pubblici, dove all'ordine del giorno c'era un tema molto sentito che riguarda i lavori per la messa in sicurezza di alcuni degli edifici scolastici della nostra città. Sono stati previsti interventi per la montare di 170.000 euro. Questi fondi verranno recuperati a 100.000 euro da capitoli destinati a manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi di varie zone di Manena di Carrara, mentre i restanti 70.000 euro sono stati anticipati dal bilancio del 2018. In Commissione è intervenuto anche l'assessore Raggi, che ha sottolineato la condizione attuale delle scuole e ha richiesto tanti soldi per poter intervenire in situazioni urgenti e tutt'ora sono in corso indagini, ma non dovrebbero esserci sorprese. Quindi a regola non dovranno esserci ulteriori variazioni di bilancio. Successivamente abbiamo accennato l'intenzione di rivedere il piano del commercio, in primo luogo a Carrara, poi ad Avenza e successivamente a Marina. Abbiamo già effettuato un primo sopralluogo con dei funzionari del comune e con i vigili del fuoco.